è stato un piacere stare qui a condividere questa esperienza con delle persone che credo che siano a livello come dire già alti di motivazione proprio perché si sono provate questo progetto Erasmus e abbiamo visto tanto prestigoli e credo che siamo tutti quanti un po' cresciuti che ci porteremo a casa qualcosa e speriamo di allargare questo spazio che si ha creato di diffondere l'idea che poi ci sono degli spazi d'incontro anche basati sul rispetto sulla fiducia perché è possibile per ampliare i nostri orizzonti, non solo contro la polarizzazione ma proprio per l'amicizia tra i popoli, penso essere importante questo.